Ma voglio andare proprio su di lei, Ministro, perché in qualche modo nel suo discorso, Ministro, lei ha detto che non sta scaricando le responsabilità. No, Ministro, lei è il primo responsabile politicamente di questa tragedia. Sa perché? Le dico una data. State in silenzio per cortesia. Come vi abbiamo ascoltato in ultimamente. No, 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 no. Allora, scusate colleghi, è la Presidenza che invita al silenzio. Grazie, Presidente. Sì, no, per cui lei proceda con il suo intervento. Le dico una data, Presidente, Ministro, 12 giugno 2013, viene depositata un'interrogazione parlamentare in cui si parla proprio di quel tratto di ferrovia, mia prima firma. Lei ha avuto tre anni per rispondere, non ho mai ricevuto risposta. È vero che prima c'era Lupi, ma lei non ha mai risposto a quell'interrogazione. Il silenzio vero è stato su quello.